no no la pinza no 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 basta questo seconda volta ragazzi sarà seconda vediamo ma vedrete che ci sarà almeno una terza perché fa sempre così è già pronto devo farglielo prendere dalla testa proprio torno indietro 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 ok devo girarglielo e farglielo prendere dalla testa che se no qui qui lo ha preso dalla testa vediamo vediamo se la volta buona ma io posso fare questa cosa ogni volta che deve mangiare posso perché lui non sa decidersi o ora però devi iniziare a ingogliarlo da qui maledetto perché lì cosa fa lo prende e poi si si distrae fa altro e alla fine non lo va a ingogliare più ora ultima volta l'ha preso bene ma basta perché se lo stesse chiedendo alla fine ha mangiato però avete visto ogni volta fa tutta questa scenetta